Un giorno a tutti e ben ritrovati con il Nova Notizia e va in archivio l'edizione 2016 di monumenti aperti. Un calo di presenze rispetto all'anno scorso dovuto però probabilmente anche alla pioggia. Boom di presenze tra i monumenti più visitati a Portigedda, nella casa e nel laboratorio del primo farmacista oristanese Romolo Nurra, in via dritta e all'antiquarium arborense. Sentiamo Alessandra Porco. I luoghi da visitare erano in tutto 55, gli alunni che hanno fatto da guide turistiche 1200, numeri importanti, un po' in flessione rispetto agli anni scorsi ma solo a causa del tempo, quelli di monumenti aperti a Oristano. La pioggia caduta abbondante, soprattutto sabato, ha tenuto a casa molta gente ma non ha intaccato il successo della manifestazione, promossa dall'Associazione Magomundi in collaborazione con Comune, Fondazione Zasartiglia e Memoria Storica. Tra le novità dell'edizione 2016 l'apertura della Torre di Portigedda e del Museo Diocesano, visitatissimi. La grande sorpresa però sono stati i mini ciceroni e le loro spiegazioni in limba, un'idea che ha lasciato i visitatori a bocca aperta per l'impegno e la bravura di insegnanti e alunni, non è stato da meno però chi ha scelto la formula classica. Ci troviamo all'antiquarium arborense, un museo che deriva dalla collezione di Fisio Pischedda, un avvocato, che poi andremo a vedere al piano di sopra. Questi sono i bronzetti che abbiamo, questo rappresenta una signora seduta, questo invece è un guerriero col mantello, questa è una sacerdotessa col sombrero e questo è un guerriero che prega. L'antiquarium arborense ha accolto 1.234 persone, 439 il sabato e 795 la domenica, più dello scorso anno quando i visitatori sono stati circa un centinaio in meno. Bundi presenze anche nella chiesa del Carmine, nell'archivio storico del comune e nella sede del gremio dei falignami. Come al solito a suscitare curiosità sono stati anche l'ex carcere di Piazza Manno e le tombe della cattedrale. Questo era il corridoio che collegava alla cattedrale alle prigioni ecclesiastiche, ora è stato sbarrato per motivi di sicurezza. Qua sopra il corridoio c'è un graffito raffigurante, un ecclesiastico e un detenuto, il detenuto è piccolo e con i capelli dritti, mentre l'ecclesiastico è grande e mostra la sua impolenza con le due dita alzate. Archiviata l'edizione 2016, tra qualche mese sarà già tempo di pensare a quella successiva. Stasera alle 21 in replica alle 23.30 trasmetteremo uno speciale dedicato proprio all'edizione 2016 di Monumenti Aperti ad Oristano con i bambini dalle scuole oristanesi a farci da Cicerone. E rimaniamo in tema di cultura, archeologia in particolare, perché tra una settimana circa al Museo Civico di Cabras partirà la nuova campagna di restauro dei reperti rinvenuti a Montebrama nel 2014 per il sindaco Cristiano Carro su un traguardo straordinario. Saranno in tutto una quindicina restauratori e studenti e per un mese circa porteranno avanti presso il Museo Civico Giovanni Marongio di Cabras la nuova campagna di restauro dei reperti di Montebrama riportati alla luce durante la campagna di scavi del 2014. Una settimana, dieci giorni al massimo, il tempo di affidare il servizio di alloggio per cui il Comune ha pubblicato un avviso e poi al via i lavori. Tutto possibile grazie all'attivazione di uno stage formativo a valere sulla convenzione sottoscritta tra la Soprintendenza per i beni archeologici della Sardegna e il Centro di Conservazione archeologica del dottor Roberto Nardi. Per Cabras un traguardo straordinario e impensabile fino a qualche tempo fa il commento entusiasta del primo cittadino Cristiano Carrus. La conferma, ha aggiunto l'assessore alla cultura Fenisia Erdas, che l'amministrazione civica ha ritenuto la valorizzazione del complesso scultorio di Montebrama una priorità irrinunciabile. Come detto, sul sito del Comune di Cabras è già consultabile l'avviso per la ricerca di operatori economici e privati cui affidare il servizio di alloggio. Ed ora la politica. Sono 16 i comuni dell'Oristanese che il prossimo 5 giugno saranno chiamati alle urne. Ieri la scadenza per la presentazione delle liste tra i centri maggiori, Marrubio e Cuglieri. Al voto anche il paese più piccolo della Sardegna, Baradili. 2.000 candidati il prossimo 5 giugno si contenderanno il voto dei 17.000 elettori della provincia di Oristano, chiamati al rinnovo di 16 amministrazioni civiche. Marrubio, con i suoi circa 5.000 abitanti, il centro più grande alle urne. In cerca di conferma, l'attuale sindaco Andrea Santucciu, che si contenderà la scena con Lorenzo Solinas. A Cuglieri sarà una sfida a tre. Si ripresenta l'uscente Andrea Loche, in campo anche l'ex primo cittadino Giovanni Battista Foddis. A completare il quadro, Giovanni Panicchi, a capo di una lista civica. A Solarussa punta la fascia tricolore il consigliere regionale del Partito Democratico, Mario Tendas. Anche a Ruinas, un'unica candidata, si tratta di Esther Tatti. A Bonarca, gli elettori sceglieranno tra Franco Pinna, Antonella Sanna e Mariangela Malica. Tre liste anche a Tramazza, dove gli aspiranti sindaci sono Francesco Enna, Francesca Piredda e Michele Piga. L'attuale vice sindaco Antonio Flore e Valeria Dettori, espressione del Partito Democratico, si contenderanno i voti a Scano Montiferro. A Villa Urbana, l'unica preoccupazione per il candidato Paolo Pireddu sarà il raggiungimento del quorum, così come a Zerfalio, dove cerca conferma l'attuale primo cittadino Pinuccio Chelo, un solo aspirante sindaco anche a Ollastra, l'ex amministratore Giovannino Cianciotto. Sfide a due a Senistra, Annetta Soi e Serena Massa, a Siristra il sindaco uscente Marco Floris e Paolo Pilloni e ad Albagiara tra Marco Marrocco e Maria Luisa Caboni. A Gonno Scodina il confronto sarà tra Roberto Podda e Pierpaolo Sizia, mentre a Nureci il vice sindaco uscente Sandrino Concas si contenderà l'elettorato con Emanuele Azzori. Al voto anche il paese più piccolo della Sardegna. A Baradili, 67 aventi diritti al voto dovranno scegliere tra l'attuale primo cittadino Lino Zedda e Giuseppe Manias. Via Libera della Giunta Comunale di Oristano al progetto esecutivo per i lavori di bonifica dall'ambianto del Palazzetto dello Sport di Sarodia. Il progetto da 177 mila euro è finanziato dalla Regione con un'integrazione di fondi comunali. I lavori si articolano in tre fasi, rimozione, bonifica delle lastre di copertura e conferimento dei materiali in apposito impianto autorizzato. Successivamente si procederà alla ricostruzione del manto di copertura con pannelli metallici coibentati, alla sostituzione dei canali di gronda e dei discendenti pluviali. Infine saranno realizzati altri lavori di manutenzione sugli ambienti e sul campo da gioco utilizzando l'eventuale ribasso d'asta. Prima di smantellare la vecchia copertura le lastre saranno incapsulate con prodotti fissativi a base di resine. Tutte le operazioni, fanno sapere dal Comune, si svolgeranno nel rigoroso rispetto delle norme e delle disposizioni della ASL. Oristano si dota di una rete di defibrillatori, saranno dislocati in diverse parti della città. Progetto del Comune e della ASL. Saranno 11 presidi di pronto soccorso dotati di defibrillatore dislocati nella città di Oristano. Il progetto realizzato da Comune e ASL è in fase di avvio. L'amministrazione acquisterà la strumentazione in collaborazione con i soggetti privati. La ASL fornirà la certificazione a 50 operatori abilitati a utilizzare i defibrillatori. Ci siamo accorti però che non era sufficiente acquistare degli impianti e dislocarli. Abbiamo quindi ragionato sulla possibilità di fare un sistema in una rete, cioè mappare l'intero tessuto cittadino, comprese le frazioni, per individuare gli spazi dove allocare questi defibrillatori, mettere anche in condizioni i cittadini di poterli utilizzare e poi metterli in rete col 118. I primi punti di soccorso saranno installati nelle frazioni e nei quartieri di Torangius, Sacro Cuore e in Viale Repubblica. Importante la collaborazione dei cittadini. È importante avvicinarsi alla vittima e fare sicuramente una cosa, anche quando non si abbiano competenze e non si sia formati, chiamare immediatamente il 118 per attivare un sistema che poi consenta il soccorso e possibilmente la salvezza della vittima di arresto cardiaco. Vi sono delle associazioni sportive e strutture dotate di defibrillatore, però non tutti sono in grado di utilizzarlo e soprattutto sono messi a disposizione una piccolissima platea di persone. Ecco, bisogna allargarlo, bisogna farlo diventare, mettere tutto in rete, tutto a sistema e questo è lo sforzo che stiamo facendo in collaborazione con l'ASL. Maggio, periodo di tosatura per i pastori sardi, alcuni anche nell'oristanese si affidano alle mani esperte dei tosatori neozelandesi. Succede per esempio da Boele Matto a Palmas Arborea e noi siamo andati a trovarlo. Per fare in fretta bisogna chiamare loro. Perché per fare in fretta un duro lavoro? È un duro lavoro sensato, stare piegati per ore così è duro e solo dei professionisti come loro sanno affrontarli. Quanti sono? Mi pare che se non sbaglio che sono sette almeno. Quante pecore fanno mediamente a testa? Ma se iniziano presto e finiscono l'una, l'una e mezza ce la fanno fare 150 pecore buone Cava 1 Qual è la tua tecnica? Prenderla dalle gambe e poi prenderla sulla lana e darla perché comunque quando la prendi dalla gamba la pecore non può più fare niente. Quanto impiegano a tosare una pecora? Molto in meno di un minuto. Da quanti anni vengono da Lelo? Da 20 anni. Quanti ovvi li girate? In quanti? In Sardinia? Un mese, due mesi. Un mese? Un mese e mezzo. E poi? Io quest'anno in Inglaterra, un amico in Scozia, fortunato a tesare la pecora in tutto il mondo. Quando tornate in Nuova Zelanda? Io in luglio. Ed ora ci spostiamo a Macomer dove nei giorni scorsi si è tenuta una grande festa per ricordare il maestro Giglio fondatore dei cori polifonici. Pier Gavino Bacca. Grande festa a Macomer nella chiesa della Sacra Famiglia per ricordare la figura di Peppino Giglio. O meglio il maestro Giglio che fu per molti anni il direttore del coro Melchiorri Murinu dal quale più tardi si formò il coro Città di Macomerre, presidente Gianfilippo Manchia. Il maestro Giglio, scomparso 26 anni fa, era un insegnante elementare originario di Balottana ma residente a Macomerre. Fu un appassionato ricercatore nonché compositore musicale, sempre nel ramo del campo popolare della Sardegna. Per certi versi fu un pioniere nel suo campo ed alcune sue composizioni fanno parte del repertorio anche di altri cori della Sardegna. La manifestazione è alla sua terza edizione, sempre organizzata dal coro Città di Macomerre. A ricordare la figura del vecchio maestro sono stati chiamati il coro Maurizio Carta di Oristano che, fin dall'inizio della sua formazione, ha preso nel suo repertorio alcuni canti di Peppino Giglio. La cantante Maria Giovanna Chirchi, anch'essa di origine malottanesa. Su un cordu ortigalesu, il coro di Mortigali che ha nel suo repertorio anche dei suggestivi canti della Settimana Santa. E i poeti Bernardo Zizzi e Salvatore Murza Niola che hanno celebrato la figura del maestro con le loro composizioni. Antonio Massimo all'Organetto e Roberto Tangiano all'Aunedas hanno accompagnato i cantori. Dopo Peppino Giglio, il coro Città di Macomerre è stato diretto da Pinuccio Solinas. Attualmente il direttore è Enrico Pilo di Ovonda che è stato allievo di Peppino Giglio. In chiusura una breve notizia di pallavola perché si è infranto il sogno della riete vestis di Oristano di rimanere in serie B2 maschile. Infatti sabato è arrivata una sconfitta per 3-1 in casa contro il Club Italia e complice la vittoria di Civitavecchia. Gli oristanesi sono ora quartultimi quando il campionato è ormai finito, anzi quintultimi e ricordiamo che retrocedevano proprio le ultime cinque. A scavalcare la squadra oristanese nell'ultimo turno di campionato è stata Civitavecchia che è riuscita nell'impresa di battere per 3-7 a 2 la prima in classifica Station Service. Non ci sono altre notizie, grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie a tutti.